Benvenuti su Medicina e Informazione Web TV. Il premio Nobel per la medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambrose e Gary Rubkin, due biologi molecolari statunitensi, per la scoperta dei microRNA, piccole molecole di RNA che aiutano a regolare l'espressione genica e quindi come una cellula si sviluppa e si differenzia o si ammala, aprendo di fatto la strada a nuove vie per terapie di precisione. E l'Italia può giocare un ruolo di primo piano in questo nuovo scenario di ricerca mondiale. Infatti il Centro Nazionale di Ricerca, Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia RNA ha da poco illustrato a Milano i risultati dei primi due anni di studi finanziati dal PNRR sulla base di una proposta progettuale presentata dall'Università di Padova. Grazie all'interconnessione fra ricerca scientifica e nuove tecnologie, il progetto ha come obiettivi quelli di promuovere la ricerca per rendere concreto il concetto di medicina di precisione e accrescere le conoscenze per lo sviluppo di terapie geniche e a base di RNA, per sviluppare terapie innovative per malattie genetiche, cancro, malattie metaboliche e cardiovascolari, disturbi neurodegenerativi, malattie infiammatorie e infettive. Oltre mille gli scienziati coinvolti in un modello di ricerca che permette di utilizzare le nuove tecnologie per trasferire i risultati della miglior ricerca scientifica al letto del paziente con terapie innovative. Ce ne parla il professor Rizzuto, presidente del Centro Nazionale di Ricerca, Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia RNA. Il Centro Nazionale RNA e Terapia Genica è una rete nel paese di scienziati di valore costruita per radicare le nuove tecnologie dello sviluppo di farmaci nel nostro paese. L'obiettivo era quindi prendere quella che è oggi una rivoluzione tecnologica, utilizzare due approcci, la terapia genica e quella molecola, l'RNA, che abbiamo imparato a conoscere perché ha permesso di produrre un vaccino, ma in realtà è una molecola straordinaria che permette di agire su qualsiasi bersaglio all'interno della cellula, che vuol dire che ogni proteina responsabile di malattia o che interviene nello sviluppo della malattia può essere corretta, può essere modificata per avere una cura verso quello che è il percorso di malattia di ogni singolo paziente. In altre parole, quello che oggi chiamiamo la terapia personalizzata, la terapia individuale, quella che permette di dire che due pazienti che si presentano con la stessa patologia in realtà hanno un percorso di malattia molto diversa, bene, se noi siamo in grado di sviluppare tanti farmaci diversi nei confronti delle cause di malattia, noi saremo in grado di produrre i farmaci migliori per quello specifico patente. E questo per il paese è un obiettivo straordinario, perché vuol dire che il nostro paese diventa leader, diventa capace di produrre tecnologia e innovazione e diventa capace di fornire quegli strumenti al sistema sanitario nazionale che permetterà di curare oggi e domani i nostri cittadini e le nostre cittadine con i migliori farmaci possibili. Per comprendere meglio gli obiettivi del centro e le ricerche già avviate parliamo di mitocondri, quelli che sono considerati le centrali energetiche del nostro organismo, perché forniscono alle cellule l'energia di cui hanno bisogno per tutte le loro funzioni vitali. Capiamo meglio quali sono le nuove conoscenze che li riguardano e come questo potrà portare alla messa a punto di terapie con nuovi meccanismi d'azione per combattere l'infiammazione che sappiamo essere alla base di moltissime patologie. Un esempio che posso raccontare perché è un esempio di come la ricerca scientifica possa mettere in luce dei bersagli terapeutici inaspettati, i bersagli farmaceutici che possono quindi darci un nuovo farmaco, una classe di farmaci nuovi. La storia che è emersa oggi, ho potuto raccontare nella conferenza stampa riguarda i mitocondri. I mitocondri sono, come sappiamo, la centrale energetica della nostra cellula, sono dei batteri che un miliardo e mezzo di anni fa sono entrati nelle nostre cellule. Oggi sappiamo che i mitocondri controllano una serie di funzioni fondamentali della nostra cellula, tra cui la morte cellulare, tra cui abbiamo imparato anche la regolazione dell'infiammazione. L'infiammazione, come sappiamo, è un processo che accompagna molte malattie, o perché le provoca, o perché le contrasta, o perché interviene nel rendere la manifestazione della malattia ancora più severa. E allora avere un nuovo regolatore inaspettato del processo dell'infiammazione significa poter avere una classe di farmaci del tutto inaspettata, completamente diversa dai farmaci antinfiammatori che abbiamo adesso. Quello che stiamo sviluppando all'interno del centro e quindi è un farmaco RNA mitocondriale che sia in grado di modulare l'infiammazione e che quindi da una parte fornisca uno strumento nuovo per contrastare il processo dell'infiammazione, dall'altro dia un vantaggio selettivo alla ricerca e allo sviluppo farmacologico in questo paese. Uno dei campi di ricerca è quello dei farmaci composti da RNA non codificante e fra poco capiremo meglio cosa significa. L'enorme vantaggio dei farmaci composti da RNA non codificanti deriva dalla loro capacità di adattarsi a ogni bersaglio molecolare, anche nei tessuti più difficili da raggiungere, quali quelli del sistema nervoso, rendendo questa tecnologia estensibile ad un gran numero di applicazioni. Ce ne parla il professor Gustin Cicci. Negli ultimi anni abbiamo compreso che esiste uno zoo di diverse molecole di RNA che noi possiamo modificare in modo tale da farle agire nel modo che noi vogliamo. In particolare possiamo modificare questi RNA in modo tale che loro attivino, aumentino l'espressione di una proteina, di un gene che è protettivo, nel caso del sistema nervoso neuroprotettivo, oppure possiamo inibire l'espressione di quelli che sono le molecole tossiche. Quindi una sorta di yin-yang per la quale noi abbiamo una scatola di strumenti che possiamo modificare e quindi rendere specifici per i nostri determinati bersagli, a seconda di quale che possa essere la strategia del trattamento farmacologico per quel tipo particolare di malattia. Gli studi in questo campo si concentrano ora su patologie per le quali c'è ancora un forte bisogno clinico di innovazione come l'Alzheimer e il Parkinson. All'interno dello SPOC3 del centro nazionale noi ci occupiamo sia di malattie come la malattia della Zain, la malattia di Parkinson, la SLA, la Cora di Huntington, o per esempio gli attacchi di Schemir. E i vari, abbiamo circa 120 ricercatori da 13 diversi enti e da 13 diverse traduzioni che collaborano al fine di trovare, identificare quali possono essere queste molecole. Per esempio nel mio laboratorio noi lavoriamo su una classe di molecole che si chiamano Sainat, che sono degli attivatori di traduzione. Cioè cosa significa? Che in condizioni normali se io ho 10 molecole di RNA messaggero riesco a fare 10 molecole di proteina. Se io raggiungo la Sainat raddoppio la quantità di proteina. E questo è importante per una serie di malattie circa 400, tutte al momento incurabili, che si chiamano la presufficienza, nel quale manca uno dei due coppie del geni e quindi vengono prodotti in metà proteina. Margendo una molecola come la Sainat, riusciamo a reinstaurare la quantità fisiologica della proteina. Per esempio un caso classico, sono dei casi di epilessia. Per esempio in IT abbiamo una Sainat, un caso di epilessia dove abbiamo una prosufficienza sul recettore del GABA, quindi poi attacchi epiletici nel topo e con la molecola siamo capaci di sopprimere queste tache epiletici, oppure in una retinite pigmentosa, oppure per esempio nel mio laboratorio stiamo facendo queste Sainat per aumentare tutti i fattori neuroproduttivi nella malattia di Parkinson. Se le terapie a base di farmaci RNA rappresentano una frontiera ancora ampiamente inesplorata, le terapie geniche costituiscono invece una branca avanzata della medicina che si applica già a numerose patologie neoplastiche, a malattie autoimmuni ed ereditarie. In particolare le terapie con cellule CAR-T, che utilizzano linfociti T del paziente stesso ingegnerizzati per riconoscere e combattere le cellule tumorali, sono già una realtà nel trattamento dei tumori del sangue. Una delle grandi sfide consiste ora nel traslare l'efficacia terapeutica delle cellule CAR-T ad altre malattie ematologiche maligne e a neoplasie solide. Ce ne parla il professor Locatelli. Lo SPOC 10 del Centro Nazionale 3 si dedica agli approcci di terapia genica applicate alla cura sia dei malati affetti da patologie ereditarie, un modello su tutti è quello dei pazienti affetti da talassemia, oppure alla cura di malati con patologie neoplastiche e anche alla cura di malati con malattie autoimmuni, perché ci sono chiare evidenze ormai consolidate che le cellule CAR-T possono essere utili anche per la cura di malattie autoimmuni dovute in particolare a quelli che si chiamano i bilinfociti autoreattivi. Il valore per il paese di questa iniziativa è che vengono a essere sviluppate delle iniziative accademiche che consentono di sviluppare approcci innovativi per la cura al di fuori di quelle che sono le indicazioni di prodotti commercialmente disponibili. Due esempi su tutti, grazie al CN3 abbiamo già pubblicato uno studio molto importante che documenta l'efficacia delle cellule CAR-T in una variante di leucemia che si chiama leucemia linfoblastica acuta di tipo T, non coperta dei prodotti commercialmente disponibili e abbiamo oltre sia attivato anche un protocollo di cura per i malati affetti da neoplasia del sistema nervoso centrale. L'altra grande prerogativa di questo Centro Nazionale 3 è che crea una massa critica di tutte le istituzioni accademiche nel senso più largo del termine inteso che si impegnano per lo sviluppo di queste terapie avanzate basate sulla modifica genetica di cellule o del nostro sistema immunitario o del nostro sistema del sangue e tutto questo è di straordinaria importanza anche per dare risposte terapeutiche ai malati affetti da patologie rare. Tra le molte sfide che si pone il Centro di ricerca le cui attività sono ora entrate nel terzo anno di lavoro finanziato dal PNRR di anche quella di attrarre nuovi investimenti con la finalità di mettere a frutto gli ottimi risultati conseguiti finora evitando di disperdere il capitale di conoscenze e di interrelazioni venutosi a creare in questi anni tra tutti i soggetti partecipanti e valorizzando per contro i molti talenti emersi tra i giovani ricercatori vanto del sistema accademico italiano. Certamente noi abbiamo visto una esplosione di ricerca e un'esplosione di ricerca con un obiettivo che è l'obiettivo di sviluppare nuovi farmaci con una nuova piattaforma tecnologica e vediamo i risultati e vediamo nuovi progetti di farmaci. Noi vediamo anche una rete di scienziati con aziende che collaborano tra di loro che mettono a disposizione piattaforme tecnologiche è un patrimonio per il paese come un patrimonio per il paese i giovani che si sono formati all'interno del centro nazionale e che possiedono queste tecnologie. Guardiamo al futuro per rendere sostenibile, per attrarre nuovi investimenti e per permettere a questa realtà di ricerca che si è creata nel paese di continuare, di crescere e di rendere sempre più efficace lo sviluppo di nuove molecole farmacologiche. Ringraziamo i nostri ospiti per averci presentato i risultati degli ultimi due anni di ricerche del centro nazionale di ricerca sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia RNA che di fatto apre la strada alla medicina del futuro. Ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina e Informazione Web TV.